Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con i motori, dunque a due settimane da un indimenticabile e fantastico rally del Ciocco e della Valle del Serchio, in questo fine settimana si disputa il 64esimo rally di Sanremo, seconda prova del campionato italiano rally, naturalmente tra i protagonisti più attesi c'è anche il nostro Paolo Andreucci che in tal senso non sta deludendo le attese e dopo quattro prove speciali della prima tappa il campione Garfagnino è saldamente al comando con 10 secondi di vantaggio su Simone Campedelli e 16 sul neozelandese Aiden Paddon, una prima tappa che probabilmente si deciderà sulla lunga e temuta mini round di oltre 33 chilometri da disputarsi nel cuore della notte, sabato vi ricordiamo che la corsa proseguirà con la seconda tappa, altre 5 prove speciali, tutte piuttosto impegnative secondo quella che è la caratteristica del rally di Sanremo ed un'altra classifica da stilare, l'arrivo della corsa è previsto nel pomeriggio a Sanremo, la città dei fiori, vi ricordiamo che Paolo Andreucci e Anna Andreucci hanno vinto negli ultimi due anni questa corsa e naturalmente puntano decisamente a ridurre il gap con Simone Campedelli, vincitore del rally del ciocco. Passiamo al calcio alla Lucchese che sabato pomeriggio sarà impegnata sul campo del Renate, il servizio di presentazione del match. Area di volata finale in Lega Pro con primo posto, playoff e salvezza ancora in discussione. A sette giornate dalla fine con un Tour de Force che proporrà 4 partite in 13 giorni, si prepara l'epilogo anche la Lucchese. Rifinitura allo stadio Porta Elisa prima della partenza per la Lombardia e per Meda dove sabato ore 16.30 i rossoneri affronteranno il Renate, una delle rivelazioni stagionali del girone A. Lopez ha avuto pochi giorni, quattro per l'esattezza, per lavorare e rivedere all'opera parte del gruppo che aveva avuto anche lo scorso anno. Poco tempo in effetti anche in considerazione che da qui a Pasqua si giocherà, si giocherà e si giocherà ancora. Fuori caso a Capuano che sconta la seconda giornata di squalifica e d'auri ai box per un problema muscolare, le scelte del cinquantenne tecnico romano paiono delineate. Pragmatismo, attenzione, pochi fronzoli, tanto che possiamo ipotizzare uno schieramento con il 3-5-2 che andiamo così a snocciolare. Nobile in porta e specie Dermaco e Maini in difesa, Tavanti, Bruccini, Mingazzini, Nolecce, Chini, Folta, Cerniera, Mediana, De Feo e Fanucchi in attacco. Il pallone racconta che all'andata era il 13 novembre al Porta Elisa finì 1-1, botte risposta nel primo quarto d'ora con Renate che si portò in vantaggio grazie a questo colpo di testa del poderoso centravanti Marzeglia. Sollecita la reazione dei rossoneri che pervennero al pareggio con Merlonghi che trasformò così un calcio di punizione. La partita fu poi avvincente con la lucchese che non riuscì però a sfondare e questo Renate di arancio vestito che confermò di essere una delle più belle realtà del torneo. Locke su pista, missione quasi impossibile ma provarci non costerà nulla. Il Forte De Marmi tenta la rimonta a Barcellona dove di remontate se ne intendono i rosso-blu campioni d'Italia. Giocano infatti sabato sera ore 20 la gara di ritorno dei quarti di finale di Aurolega sulla pista del formidabile squadrone catalano che all'andata si è imposto per 3-1 al palaforte. Sabato sera si completerà anche il quadro della 25esima giornata del campionato di A1. Tra le partite in programma la trasferta del Cgc a Viareggio, ormai sicuro del terzo posto, a Monza. Il basket trasferta con l'Amaro in bocca per la Lombardi-Lucca. Parliamo di Under-18 che a Iesi offre una prestazione sotto tono e cede nel finale 56-54 in una partita giocata punto a punto da segnalare nelle fila della formazione guidata da Coach Piazza. Le buone prove di Drucker e del debbio. Sempre per il basket, in questo caso la serie C femminile, nel match al palabox di Alto Pascio contro Castelfiorentino, il Cg Serramenti si impone nettamente 57-28 in una gara dominata fin dal primo quarto. Il primo posto delle Alto Pascesi è sempre più saldo, buona prova del collettivo con Calanchi, Salvioni e Lanzarini su tutte. Nasce dopo lo challenge allievi di ciclismo su strada anche lo challenge provinciale di mountain bike. Evidente che lo challenge allievi Lucca Versilia di ciclismo su strada, giunto quest'anno alla sedicesima edizione, non gli bastava più. Allora il presidente provinciale della Federazione Ciclistica, Gianfranco Battaglia, ha deciso di creare e dar vita ad un nuovo evento che, ne siamo convinti, riscuoterà un buon successo, anche perché sul territorio provinciale ci sono tanti appassionati e praticanti. Parliamo del primo challenge lucchese di mountain bike, primo trofeo Ducato Lucca a memoria a Simone Pardini. Per allestire l'evento, il comitato provinciale si avverrà della preziosa collaborazione del supporto tecnico di Giovo Team Torpado, CM2, New Bike 2008 e Jolly Bike, che saranno anche le società organizzatrici delle quattro prove in programma, dislocate sul calendario da giugno ad agosto. Nel dettaglio si partirà l'11 giugno con il Grand Prix Le Vie del Buffardello, a piano di Cerreto, nel comune di Castiglione Garfagnana. Si proseguirà il 2 luglio con il secondo trofeo Martello del Diavolo a Forno Volasco. Il 16 luglio sarà la volta del primo trofeo altopiano delle Pizzorne ed infine il 27 agosto con il secondo trofeo Simone Pardini a Santa Maria del Giudice, quel Simone Pardini, cointitolata l'intera manifestazione. Potranno partecipare allo challenge sia le categorie agonistiche che ciclo amatoriali. Il punteggio per ogni singola gara e categoria sarà così suddiviso. 10 punti al primo classificato, 8 al secondo, 6 al terzo, 4 al quarto e 2 al quinto. A parità di punteggio nella classifica finale la vittoria andrà al corridore che avrà ottenuto il miglior piazzamento nell'ultima prova. Infine sarà la maglia bianca, il simbolo del primato dello challenge di mountain bike, competizione che va così ad arricchire la stagione del ciclismo fuoristrata nella nostra provincia. La pallavolo massa di Andrea Masini, ospite sabato ore 18.30 della Phantom Modena. Di fronte alla prima e la seconda della classe, se c'è una gara che alla vigilia del torneo andava segnata con la matita rossa come big match, è proprio questa. Massa vincendo a Modena eliminerebbe anche matematicamente ogni chance emiliana di rimonta, chiudendo i giochi per il primo posto addirittura a quattro giornate dal termine. Importante manifestazione promozionale di pugilato giovanile a carattere interregionale, domenica alla palestra della scuola secondaria di primo grado Donaldo Mei di San Leonardo Treponzio. La pugilistica lucchese, in collaborazione con il comune di Capannori, promuove la manifestazione sportiva campioni di domani, che a partire dalle 15.30 vedrà salire sul ring molte giovani promesse del pugilato di varie età. Siamo al nuoto sincronizzato, prime vittorie stagionali per le ragazze dell'Acquatica Massarosa, pioggia di medaglie per il settore propaganda, nella prima gara di obbligatori nella categoria esordiente B e C. Ottimi risultati anche alla prima prova del campionato regionale fin nella categoria Juniors e ragazze. Grande soddisfazione per gli ottimi risultati del numeroso gruppo del nuoto sincronizzato da parte dei dirigenti della società acquatica di Massarosa. Praticare sport ad alto livello, migliorando l'inglese e creandosi l'occasione per studiare in una high school o in un college americano. Tutto questo grazie ad un progetto tutto lucchese, portato avanti da Alessandro Petrini e Gabriele Grazzini, ideatori di Full Court, il nuovo brand di Clip Comunicare, un'azienda del polo tecnologico di Sorbano, che intende offrire l'opportunità ai giovani atletti italiani di investire su loro stessi. Magari su questo interessante progetto avremo modo di tornare a parlarne con quelli che sono stati anche gli ideatori. Bene, si chiude qui la pagina sportiva e vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.